Kamisama no Orgel, letteralmente Il carillon di Dio, è un manga breve di Megumi Mizusawa, per intenderci l'autrice del manga Un fiocco per sognare. Il manga, inedito in Italia, comincia la sua serializzazione nel 2001 sulla rivista Kuki di Shuesha. Si tratta di un lavoro altamente innovativo, con tematiche scomode e un po' tabù. È la storia di Yumi e Kota, entrambi 19 anni, che frequentano il secondo anno di università. Stanno insieme già da un po', hanno la stessa passione per la musica, ma il loro rapporto sta pian piano appiattendosi su una monotona routine. In più c'è il bel Moria, da tempo innamorato di Yumi, e che anche la stessa Yumi sembra non disdegnare. Ma proprio quando entrambi stanno pensando di porre fine alla loro storia, Yumi si scopre incinta. Essendo ancora giovanissima, il suo primo pensiero è quello di interrompere la gravidanza, mentre Kota, preso dal panico, pensa addirittura di scappare via, di darsela a gambe. Ma una sorta di musica dentro di lei porterà Yumi a decidere di tenere il bambino, e anche Kota deciderà di assumersi le proprie responsabilità. E questo, nonostante il padre di Yumi, proprio non veda di buon occhio la situazione. Yumi e Kota decidono così di sposarsi, in altre parole, il classico matrimonio riparatore. Nasce il piccolo Tsubasa e per i due giovani la vita è tutt'altro che semplice. I soldi non bastano mai, devono portarsi dietro il bambino alle lezioni, Yumi deve rinunciare al suo lavoro part time, e mentre i loro amici si godono la vita universitaria, uscendo, bevendo e facendo baldoria, Yumi e Kota hanno già sulle spalle le responsabilità di una famiglia. Per molto tempo faticheranno a trovare un equilibrio di coppia, anche perché la gravidanza non era arrivata in un momento di solidi presupposti. In tutto questo Moria si rifarà vivo, arrivando a confessare il suo amore a Yumi, mentre un'altra ragazza, Noah, si avvicinerà a Kota. Ma pian piano le cose andranno a posto, quasi come un piccolo miracolo dal cielo. Yumi riprende il suo lavoro part time e conosce anche una ragazza trentenne con tre figli, che si era trovata nella sua stessa situazione e che le infonde fiducia. Yumi prosegue a piccoli passi gli studi universitari, mentre Kota trova un lavoro a tempo pieno, decidendo comunque di non rinunciare completamente al sogno un giorno di poter diventare un musicista. Sul finire della storia, quando Tsubasa ha quasi due anni, gli amici di Yumi e Kota, compreso Moria, che guarda la situazione con ritrovata serenità, organizzeranno per i due giovani un bel matrimonio a sorpresa. Quel matrimonio che Yumi aveva tanto sognato e che non aveva potuto avere per mancanza di soldi. Una storia adulta, uno spaccato veritiero della vita di una coppia, che troppo giovane si è ritrovata ad avere un figlio, ma che non si è resa davanti alle difficoltà. Che ne dite? Conoscevate questa storia?